Ciao a tutti, è lei Giovi e insieme siamo in me contro te Notate qualcosa di strano? Io sì, sei un piccolo mostro di ciattolo Sono senza trucco, ma c'è un motivo, un motivo molto molto figo Vieni qua Luis, stavi scherzando vero? Certo Chiedimi scusa Scusa, tu sei sempre bellissima principessa cacciofina, non importa il trucco Anche se quando sono truccata è molto più bello perché sono più colorata e più glitterata Però comunque così non faccio spaventare Esatto Oggi andremo a fare la mia trasformazione da semplice e comune ragazza a Barbie Avete presente lei? La Barbie per eccellenza bionda, con gli occhi azzurri Guardate che carina, è totalmente all'opposta di me Io sono castana con gli occhi castani Quindi oggi andremo a realizzare questo video che sembra impossibile In cui io diventerò lei Abbiamo deciso di fare questo video proprio in onore della nostra nuova serie May Contro Te Toys In cui io e lui siamo in versione giocattolo e viviamo la nostra vita nel mondo dei giochi Esce un nuovo episodio di questa serie ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 17 Quindi se ancora non siete iscritti mi raccomando fatelo subito per non perdervi nessuno nelle nostre avventure Comunque stavo pensando Sofì ma come riuscirai a trasformarti in lei? Siete completamente diverse Hai intenzione di truccarti, di cambiarti gli occhi E lei ha gli occhi azzurri Vedrai lui, ti stupirò Ovviamente da sola non ci riuscirai mai Infatti oggi è qui con me la mia amica Loretta Ciao La conoscete, lei è una cantante bravissima Che ha anche un canale di make up E oggi mi darà una mano e faremo questa trasformazione Yes Sei pronta? Sono prontissima Anzi in realtà poco poco Perché io non sono una make up arts Però visto che siamo amiche È simpa Facciamo questo gioco Sì, ci divertiremo tantissimo Quindi chi è la sfida a ben inizio? Saluto le note Yeah, yeah Minimimi Sì, brava La spavola anche tu Come primo step andremo a fare la cosa più figa di tutte Ovvero andrò a cambiare il colore dei miei occhi E andrò a mettere le lentine blu ovviamente Mamma mia sarà stranissimo Sofì con gli occhi chiari Sono un'altra persona Venite con me Aiuto ragazzi non ho mai messo le lentine colorate Allora Oh mamma mia questo momento lo odio Non è successo niente In realtà qualcosa è successo Cosa è successo? Gli occhi ti stanno diventando azzurri Veramente? Sì Sei serio? Ragazzi secondo me non è cambiato niente No, è cambiato qualcosa Hai gli occhi strani Non sono azzurri No, no, infatti non sono azzurri Sono marronazzurro Sono molto perplessa E diciamo che abbiamo fallito il primo step Però adesso continueremo la nostra trasformazione Andiamo da Loretta Ok qui c'è la nostra Sofì con gli occhi strani Ci siamo Sono nella mia postazione Loretta Ci riusciremo? Ci riusciremo Ci riusciremo Io credo in te Qui già ci sono tutti i trucchi pronti Anche la Barbie Come referenza Guardate qua Ci sono un sacco di ombretti super rosa Il blush Primo step è fare gli occhi Ok così se facciamo qualche pastrocchio Lo possiamo togliere con una salventina Ok Va bene Come potete vedere stanno mettendo un po' di vernice nell'occhio Devo stare ferma Sofì al momento non ti assomiglia per niente Non posso aprire gli occhi Non mi fai ridere È un'ora che ti stai truccando Abbi pazienza lui Ci riusciremo Noi ne siamo certe Abbiamo fatto la base E io veramente ho tantissima curiosità di guardarmi allo specchio Perché non mi sono ancora vista Non ho idea Come sono? Sembra una Barbie? Sì sembra che hai la pelle di cera Wow ecco Le Barbie l'hanno di plastica Quindi in realtà ci siamo quasi Il momento cruciale ragazzi Dobbiamo mettere le sciglie finte Guardate cioè sono pazzesche Sono super wow Mamma mia ragazzi Ma ce la mi si mettono? Ecco questa è una bella domanda Perché io non l'ho mai fatto ad un'altra persona Quindi adesso lo scopriremo insieme Ci guarderei gli occhi Mamma mia Wow Con la colla sono attaccate Un giorno le metterò a te Lui preparati No assolutamente Apri l'occhio Wow è gigante Sono lunghe? Lunghissime Wow Arriva anche l'altra Sei pronta? Prontissimo Ragazzi avete caldo? Guardate c'è il ventaglio Sofì che arriva E' stranissimo Adesso stiamo per andare a mettere il rossetto Super rosa Vai Eccolo qua Guardatelo E adesso il momento più atteso Ovvero la parrucca Guardate qui che biondo Che super biondo Sofì diventerai una vera e propria bambola Non aspetto altro Che sta succedendo adesso? Il calzino in testa Il calzino? Che devi fare? Ma dovevi diventare Barbie Ok ok Sei bellissima No ragazzi Ok Ok Sei ufficialmente diventato uno squishy Sono morbidissima Chissà come sarò con i capelli biondi La prima volta che metto una parrucca In maniera più professionale Di solito ho detto quelle di plastica Messe malissimo Il momento più importante ragazzi I capelli I capelli veramente veramente biondi Cappelli da pazza qui dietro Sei super bionda Super Barbie Ancora non ve la voglio spoilerare Manca davvero pochissimo E vedrete la trasformazione completa Signori e signori State per vedere la trasformazione di Sofì In Barbie Ecco a voi Barbie No Wow E' stranissimo avere i capelli biondi Sei bellissima Vuoi chiedermi a guardare allo specchio Vai Ecco a te lo specchio Ti puoi guardare Faccio troppo ridere No ma Loretta sei stata bravissima Insomma dai Ce la siamo cavati Ti voglio qui tutte le mattine È bellissimo Io non so truccarmi così Sono Barbie È ufficiale Peccato per gli occhi Se ne avesse avuti un po' più blu Sarebbe stato ancora meglio Però Wow Caspita Che cambiamento Non sembro neanche io Però devo fare una cosa Perché lo desidero Da cosa avevo listato il video Che cosa? I'm a Barbie girl In the Barbie world It's fantastic No 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 Ragazzi è un sogno che sia vera Mi sento una Barbie Wow Fantastico Fatemi tanti screenshot E caricateli su Instagram Perché non ricapiterà mai più Quindi Cheese Ovviamente taggateci Ci chiamiamo Me contro te Ciao a tutti Lei è non lo so Barbie Sofì Wow È stranissimo Sembra un'altra persona Lo so Wow Ho fatto la coda No Cioè è strano Adesso potresti entrare tu Nel mondo di Me contro te toys Sì ok Potresti essere l'amica Della Sofì Dei giocattoli Sarebbe divertentissimo Noi vogliamo ringraziare Loretta Per essere stata ospite Del nostro canale E aver trasformato Sofì Grazie mille Ma soprattutto Se ancora non lo fate Seguitela Perché a breve Nel suo canale Uscirà un video divertentissimo Cosa farai? Mi trasformerò in una Bratz Cioè sarà pazzesco Sarà un po' in fondo Questa trasformazione Però in Bratz Noi passiamo a salutare L'amparato di oggi Che è Giulio Muti E mandiamo un bacione a tutti voi A domani Ciao 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 Non sopì Mi riconoscete?